Buonasera, sono il sindaco di San Deusano del Sangro, Raffaele Verratti. Questo è il mio paese alle ore 18.45. Finalmente i miei cittadini sono riusciti a capire che bisogna stare a casa. Bisogna uscire soltanto se ce n'è una necessità estrema, se non altrimenti bisogna restare a casa. Oggi ho fatto tre ore di pattuglie lungo il paese e finalmente sono riuscito, insieme a altre persone che chiaramente ci tengono a risolvere questo problema, a condividere e a cercare di far capire alle persone che soltanto restando a casa si può risolvere questo problema.